L'autonomia differenziata delle regioni sarà una secessione per i ricchi oppure una opportunità vera e propria? Su questo si interroga il seminario voluto dall'Associazione Proteo Fare Sapere e dalla FLC CGL della Toscana. Ci si interroga se con questa maggiore autonomia la scuola che fa parte del pacchetto delle autonomie regionali sarà migliorata oppure distrutta. Qui si parla invece di un intervento diretto delle regioni nella gestione dei programmi scolastici, nella gestione del personale si cancellerebbe il contratto collettivo nazionale per cui si verrebbe pagati di più in base alla regione dove lavori, queste sono le zone salariali, questa non è la valorizzazione professionale e soprattutto ci sarebbero profondi rischi per la libertà di insegnamento perché i dirigenti scolastici nominati dalla regione subirebbero forti pressioni appunto dalla politica. Noi pensiamo che sia una scelta accelerata e non solo per queste ragioni, anche perché grazie alla scuola si è costruita l'unità nazionale. Quello che accade in Inghilterra dovrebbe insegnarci qualcosa. Sono processi pericolosi, sono processi non governati dalla politica che cerca un consenso a breve termine. Noi pensiamo che bisogna invece realizzare il dettato costituzionale garantendo diritti uguali alle bambine e ai bambini in tutto il paese e pensando che forse in Italia abbiamo non tanto un problema che riguarda alcune regioni del nord ma tante regioni del centro e del sud che si spopolano e che avrebbero bisogno di maggiori investimenti. Le emergenze di questo paese si risolvono con una politica nazionale e cambiando probabilmente anche le politiche europee ma con un senso e una logica. Per alcuni, non certo per i detrattori, una maggiore autonomia regionale sarebbe buona cosa. Cosa ne pensa invece la sua associazione che si interessa soprattutto di istruzione? Il problema diventa che se non si danno le stesse opportunità a tutti si rischia di avere un'Italia a due velocità. Dunque, secondo il suo pensiero, l'interrogativo che si pone a questo seminario, la sua risposta sarebbe sì, è una secessione per i ricchi. Per l'istruzione sicuramente sarebbe così perché anche avere gli insegnanti migliori e tutto il resto questo vorrebbe dire pagarli di più, fare e quindi regionalizzare questo non mi sembra la cosa migliore. La regione toscana si è minimamente smarcata dall'idea di autonomia regionali delle altre regioni. In che cosa? Quali sono le richieste della Toscana? Allora, noi non siamo contro il regionalismo differenziato to cure, peraltro è previsto dalla Costituzione, ma noi crediamo che possa essere un'opportunità solo se viene rispettata una cornice di contesto. Questa cornice deve prevedere i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere determinati a livello centrale e gli standard dei servizi. Se questo non succede, veramente l'autonomia differenziata può portare alla creazione di tante realtà e quindi veramente anche allo smembramento dello Stato. Ci sono dei settori come quello dell'istruzione, dove se da una parte è giusto efficientare il sistema nel senso di dare strumenti più in linea con le necessità dei territori, penso al dimensionamento, all'autonomia. Adesso abbiamo delle leggi rigide a livello nazionale che ci impongono per esempio di tutelare le piccole scuole in montagna, quindi questo va benissimo, ma pensare a un personale frazionato fra regioni, a un sistema che perde quella unitarietà che è stato anche il motore di crescita culturale del nostro paese, per questo la regione toscana è assolutamente contraria. L'applicazione dell'articolo 116, comma terra della Costituzione la metterebbe davvero in pericolo? Questo credo sia un'affermazione eccessiva. È un istituto previsto nella Costituzione che naturalmente di per sé non presenta nulla di eversivo. Naturalmente si tratta di capire come viene attuato. Queste iniziative che sono partite da alcune regioni non mi sembra che siano il modo migliore per avviare l'applicazione di questo istituto. Noi abbiamo avuto nel 2001 una riforma che è rimasta largamente inattuata. Molte delle competenze previste in Costituzione non sono mai state trasferite alle regioni. Dunque parlare ora di ulteriori forme di autonomia quando le forme di autonomia ordinaria, quelle previste dal 117 attuale e 116, sono rimaste sulla carta, mi pare, un modo di invertire i termini del problema. Si tratterebbe, credo, prima di tutto di mettere a regime la riforma del 2001 e solo dopo e sulla base di criteri razionali procedere ad un eventuale allargamento dell'autonomia per quelle regioni dove effettivamente questa autonomia può servire di più che non lo Stato. L'autonomia regionale, l'autonomia differenziata è una secessione per i ricchi? Qual è il pensiero della CGL? Sì, è un'associazione per i ricchi perché sostanzialmente utilizzando il referendum promossi e l'attivazione della procedura costituzionale di Lombardia, Veneto e anche Emilia Romagna è sostanzialmente lo smembramento del paese, un paese tra l'altro di edificazione recente. C'è un'idea miope che si salva soltanto il nord, il centro nord, che il mezzogiorno può essere completamente abbandonato e che le regioni dell'Italia centrale possono subire tranquillamente un processo di marginalizzazione. Quindi ci sarebbero tante piccole patrie dove per esempio anche gli ordinamenti scolastici, i corsi di studio, addirittura gli inquadramenti giuridici del personale differenziati e verrebbe meno anche che il processo faticoso che dal risorgimento ha provato a costruire da tanti stratelli una nazione unificandoli sulla cultura, la lingua e anche i diritti del lavoro. Quindi come CGL per noi non è affatto un'opportunità, è la secessione dei ricchi, è la frantumazione come dirvi anche del sistema paese.